Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Il Vangelo di questa domenica ci consegna chiavi preziose per comprendere e vivere il mistero della morte e risurrezione del Signore. Lasciamoci guidare da tre immagini, la croce, il seme, l'ora. Partiamo dalla croce. Dei greci vanno da Filippo perché vogliono vedere Gesù, cioè hanno desiderio di incontrarlo, di conoscerlo profondamente. Filippo va da Andrea e insieme vanno da Gesù. Gesù non dice né sì né no, ma sposta tutto su un altro livello e dice è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. E subito dopo ci spiega come, con la parabola del chicco di grano che, morendo, porta frutto. Gesù dunque ci dice che è giunta l'ora in cui si manifesterà la gloria di Dio, cioè la sua piena realtà, la sua verità profonda, e come? Nel suo dare la vita per noi, nell'amarci sino alla fine. In forza della sua morte e risurrezione, tutti potranno in qualche modo vederlo. Dunque, come ci ha ricordato Papa Francesco, chi vuole conoscere Gesù deve guardare dentro alla croce, dove si rivela la sua gloria. La domanda è, a te cosa dice la croce? È solo un oggetto culturale o ornamentale? Ti ricorda solo sofferenza o ti parla d'amore? A te che sei nella sofferenza e pensi che Dio sia lontano, cosa dice la croce? A te che sei nella rabbia causata dalla morte di una persona cara e che in qualche modo cerchi Dio anche prendendotela con Lui in questo momento, cosa dice la croce? A te che sei caduto nel peccato, che sperimenti il fallimento, cosa dice la croce? A te che mendichi amore, cosa dice la croce? Ricorda, è proprio la croce che ti rivela la vicinanza di Dio, la sua compassione per te, che ti dice quanto Dio ti ami. Ha ragione, San Paolo diceva, Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ricorda, Dio ti ama al punto da portarti inciso, impresso, nelle sue mani, nel suo cuore. Secondo punto, il seme. Abbiamo detto che Gesù, mediante la parabola del chicco di grano, ci aiuta a comprendere come si manifesta la sua gloria. A ben pensarci, in cosa consiste la gloria di questo semino? Nel morire per dare molto frutto. Dunque la gloria di Dio si manifesta nel suo dare la vita per noi. È l'assurda bellezza del mistero pasquale. Dio ci dà la vita per mezzo del suo annullamento. In questo chicco di grano possiamo vedere l'intera vicenda del Signore. Dio è caduto in terra con l'incarnazione, ha dato la vita attraverso la sua passione morte ed è rispuntato con la risurrezione e ha portato un frutto immenso, la salvezza, il dono dello Spirito Santo, la Chiesa. Ma vedete, qui abbiamo un segreto importante anche per la nostra vita. Se vogliamo portare molto frutto e non restare soli, siamo chiamati a morire a noi stessi. È un po' ciò che Gesù spiega subito dopo dicendo chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Cosa significa? Che la vita che c'è donata ha una logica interna? È un dono da donare. Se la tieni per te marcisce, se la doni fiorisce. Dunque, se uno vive per se stesso, se tiene stretta la sua vita e non si dona, vive per il proprio tornaconto. Se uno pretende che la realtà si pieghi alle sue idee, se sta con le persone solo se rientrano nei suoi parametri, se sta in una relazione solo finché gli va, rischia di restare solo. Una persona così rischia che non abbia amici veri. Magari sarà temuto, economicamente realizzato, potente, ma sarà solo. Viceversa, se uno impara a morire a se stesso, porterà frutto. Amare è darsi. È apparentemente un gioco a perdere. Invece è ciò che ti fa ritrovare, che ti fa e fa realizzare. D'altronde, miei cari, basta guardarci attorno. Che cos'è che cerchiamo nel genitore, nel confratello, nella consorella, nel superiore, nell'amico, se non qualcuno capace di spendersi per noi, che ci voglia bene. Noi non andiamo in cerca di qualcuno capace solo di farsi i fatti suoi, di preoccuparsi di sé o di possedere tutto o di essere controllore di tutto, ma qualcuno che sappia dare la vita per noi, che sappia amarci sul serio, disposto anche a soffrire pur di prendersi cura di noi. È questo quello che realmente conta, ed è questo in fondo ciò su cui saremo giudicati. Dunque, come ha detto bene padre Cantalamessa, cadere in terra e morire non è solo la via per portare frutto, ma anche la via per salvare la propria vita, cioè per continuare a vivere. Se l'uomo non passa attraverso la trasformazione che viene dalla fede e dal battesimo, ma rimane attaccato al suo modo naturale di essere e al suo egoismo, tutto finisce con lui. Se invece crede e accetta la croce in unione con Cristo, allora gli si apre davanti l'orizzonte della beata eternità. Ma senza pensare solo alla nostra morte, questa parabola illumina già la nostra quotidianità. Ad esempio, il rapporto di coppia è in crisi, perché il coniuge non è come lo vorresti tu? Ricordati del chicco di grano e prova a morire un po' più a te stesso, cercando di volergli bene per ciò che è, anziché criticare sempre valorizza il bene che compie. Oppure, c'è un progetto che non è andato a buon fine o che è crollato? Oppure, le cose non sono andate come avresti voluto tu? Ricordati del chicco di grano e fidati che Dio ha in mente qualcosa di più bello, di più grande per te. Oppure, vorresti sposarti ma non trovi nessuno e sei tentato dallo sconforto? Ricordati del chicco di grano e prova a consegnarti fiducioso alla volontà di Dio. Quante persone, dopo quest'atto di consegna, hanno ritrovato se stesse, hanno scoperto nuove possibilità per donarsi? Oppure hanno trovato proprio la persona giusta? O si sono aperte ad un discernimento più profondo su un altro stato di vita? Ricordo anche la vicenda di una coppia che non poteva avere figli e la donna era triste e frustrata, ossessionata da quello che per lei era l'unico scopo della vita, concepire un figlio. Era diventata così amara da odiare tutte le donne con un figlio. Non riusciva più neanche a pregare il padre nostro per paura che Dio la prendesse come una rinuncia da parte sua ad avere un figlio. Era come il chicco di grano che non voleva cadere e morire. Dopo tanti anni di resistenza e lotta, grazie anche ad amici credenti, trovò il coraggio, in un momento di preghiera, di abbandonarsi a Dio e credere che se lui le aveva dato un cuore di madre non era perché rimanesse vuoto e sterile. Pianse una notte intera, ma alla fine aveva lasciato cadere il suo chicco di grano e aveva ritrovato la serenità. Dopotempo iniziarono le pratiche per l'adozione, che contrariamente alle attese furono rapidissime. E quando per la prima volta tenne in braccio la bambina adottata, capì subito perché Dio le avesse dato un cuore di madre e disse, con lei il Signore mi ha benedetto ancora più che se avessi avuto una figlia tutta mia. Il miracolo che Dio ha fatto non è stato solo di darci una bambina adorabile e vivacissima, ma anche di liberare me dall'unica cosa che mi teneva legata e lontana da Dio, la mia ossessione di decidere io stessa della mia vita. E alla fine, miei cari, questo chicco di grano caduto in terra, chiamato a morire per portare frutto, saremo noi stessi con la morte, ma anche in quel caso Gesù ci ha assicurato che sarà per noi una nuova rifioritura, risorgeremo da morte e questa volta per non morire più. Terza immagine, l'ora. Davanti alla prospettiva della sua passione e morte, Gesù avverte un forte turbamento. Adesso l'anima mia è turbata, dice. Sente la ribellione della carne, lo sconvolgimento interiore, avverte tutto il peso dell'angoscia. Questo ci conforta, miei cari. Vedete, se Gesù non avesse vissuto tutto questo, nei momenti difficili noi avremmo potuto dire, Signore, Tu non mi puoi capire. E invece no. Dio può capirti nelle tue angosce, nelle tue paure, e ti viene incontro proprio lì, dandoti la grazia e l'esempio per affrontarle. Gesù infatti continua e dice, adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Cioè Gesù sa di essere giunto lì per un motivo. Tutta la vita di Gesù è stata un grande sì al Padre. Potremmo dire una grande preparazione a quest'ultimo grande sì. Mie cari, questo ci fa pensare, ci fa chiedere a cosa servono le nostre ore, cioè i momenti seri della vita? A deprimerci? Cosa conta? Salvarci la pelle o fidarci di Dio? Quante volte, davanti alle sofferenze, alle difficoltà, chiediamo soltanto aiuto al Signore perché le risolva al più presto, pretendendo che Lui faccia la nostra volontà, arrabbiandoci se non la fa? Perché non provare invece ad affidarci a Lui, abbandonandoci alla Sua volontà? Perché non lasciare fare Dio a Dio, lasciando che le cose avvengano secondo i Suoi tempi e non secondo i nostri? Anziché chiederci soltanto perché proprio a me? Perché non provare a chiederci e perché non a me? Se sono giunto a quest'ora, se Tu, Signore, mi chiami ad affrontare questa situazione, non è che vuoi fare qualcosa di bello attraverso di me? Non è che questa difficoltà è una strada per imparare a fidarmi di più e provare a donarmi un po' di più? Non è che proprio attraverso questa sofferenza che mi macera o questa difficoltà che mi logora posso imparare a consegnarmi ancora più fiduciosamente nelle mani del Padre e a donarmi più generosamente agli altri? Cari fratelli e sorelle, ci servirebbe a poco arrivare alla Pasqua senza essere disposti a fare Pasqua, a passare cioè dal nostro io a Dio, uscendo dai nostri angusti schemi per tuffarci nelle braccia di Dio che vede più lontano di noi e sa cosa fare della nostra vita. Dunque coraggio, guardando alla croce, sapendoci e sentendoci amati, che il Signore ci aiuti a donarci come questo chicco di grano e a fidarci di Dio nostro Padre che sempre ci conduce per mano per condurci all'eternità, alla gloria, quella vera che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!